Benvenuti al test di oggi. Come fanno 10 motociclisti a dividersi il conto del pub senza venire alle mani? Con la nuova PostePay Evolution hai tutte le funzionalità della PostePay e in più puoi inviare e ricevere mini ricariche gratis da app PostePay fino a 25 euro al giorno. PostePay Evolution, testata per tutto, perfino per la vita di ogni giorno. Grazie a tutti.